Il libro allo studio, non si rivolta, non diverteremo, non la rossa Le persone che studenti sanno bene, che saranno i lavoratori del futuro E non mi dico che oggi si viene tolta ai lavoratori, non mi dico che si viene tolta al loro futuro Il libro allo studio, non mi dico che si viene tolta ai lavoratori